Questa settimana resta più o meno stabile il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, intorno a 836 casi per 100.000 abitanti, mentre resta ancora elevato l'RT, siamo a 1,24, quindi ben al di sopra dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 15,2 e al 4,7%, quindi vediamo ancora una tendenza all'aumento per quanto riguarda l'occupazione, soprattutto dei posti di area medica. Naturalmente con la fine dell'emergenza cambia la gestione dell'epidemia, ma il virus c'è sempre e quindi continua il lavoro del Ministero della Salute. Vaccini, uso di mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani sono degli strumenti estremamente utili che ormai siamo abituati a utilizzare. Quindi è importante mantenerli.